scusa ricomincio che mi è arrivata una notifica mensoline con il quadrettone questo è il nostro caminetto inventato improvvisato con dentro un sacco di merda di trucchi che devo sistemare qui sopra ci andrà la mensola la stessa mensola che abbiamo trovato nel soffitto, nel loft nel soppalco e andrà lì sopra piccolina così che fa l'effetto caminetto poi qui c'è la cucinina molto carina guarda che tesoro a sinistra c'è il gas a destra c'è il lavandino poi praticamente qui c'è la piccola libreria molto fica e qui sopra c'è il soppalco di Federica che ora c'è la finestra chiusa e lì non c'è rivo è molto carino è un metro e dieci quindi ci sta tranquillissima molto contenta l'orologio di Las Vegas guarda che ficata la maniglia con i gradini per salire sembrano delle caramelline sono stupende poi questa vabbè fuori bello bello oggi è pure luminoso c'è il sole si sta benissimo quindi questa è la nostra finestrella vi dico i signori che passano sta antenna di merda che devo levare perché non è mia comunque qui sotto e poi qui c'è il soppalco vedi quando è bello il soppalco è fatto benissimo lì c'è l'angoletto della cena ora ti faccio vedere il soppalco e col tavolino per mangiare la tua valigia che per favore se viene Raimondo ti prego perché non sappiamo non lo metterla enorme vabbè sta là però insomma se la riuscissimo a levare dalle belle non è male grazie